BCC San Marzano di San Giuseppe presenta Linea Argento, il progetto di credito dedicato agli over 65. Hai più di 65 anni e vuoi fare nuovi programmi, girare il mondo, finanziare gli studi dei tuoi nipoti o semplicemente aiutare i tuoi figli a comprare a casa? Questa è la soluzione. BCC San Marzano di San Giuseppe. Perché non si è mai troppo grande per pensare al futuro. Grazie a tutti.